Un bel gesto di solidarietà da parte dell'Associazione Nazionale Carbinieri di Agropoli. Un anziano di 94 anni, residente ad Agropoli, era rimasto senza cibo in casa. Una sua vicina di casa, a conoscenza della situazione, è immediatamente informato l'Associazione ANC, da sempre impegnata sul territorio comunale a supporto di diverse iniziative sociali. I membri dell'Associazione si sono recati presso l'abitazione dell'anziano e, costatato il suo stato di grave difficoltà, di propria iniziativa, si sono recati al supermercato per acquistare i generi alimentari di prima necessità. Poco dopo, con la spesa acquistata, sono andati a casa dell'anziano che, inevitabilmente, si è emozionato nel vedersi palesarsi davanti ai suoi occhi quel cuore grande di persone che non hanno atteso tempo per aiutarlo. La vicenda è stata raccontata sui social da Giuseppe Di Lucia, segretario dell'Associazione Nazionale Carabinieri, anche per mettere in evidenza alle autorità competenti che di storie come queste ce ne sono tante in città.